Mi chiamo Paolo Citran, sono un ispettore superiore della Polizia di Stato, in servizio presso della questore di Venezia. Mi trovo presso il salone del libro dove ho presentato il mio ultimo libro, Noi poliziotti del 113. È un libro che parla dell'attività prevalentemente fatta dagli uomini delle volanti, dove ho trascorso tutta la mia vita professionale. È un libro che ritengo abbia avuto interesse anche per il seguito che abbiamo avuto. È un libro che è dedicato a tutti i caduti della Polizia di Stato e vuole far capire ai cittadini e anche a chi magari non ha idea di cosa significa fare il lavoro del poliziotto, delle difficoltà che ci sono e di quanto impegno i poliziotti ci mettono quotidianamente in questo servizio che è molto importante. È un servizio che è rivolto prevalentemente alla cittadinanza, che noi consideriamo i cittadini l'essenza stessa di questo Paese e lo facciamo quotidianamente nonostante molte difficoltà, con tanto impegno che non verrà mai a mancare. Sostanzialmente abbiamo un patto morale con i cittadini a cui non intendiamo venire meno. Spero che questo messaggio sia accolto, sia capito, sia compreso senza nessun tipo di presunzione ma per far capire veramente quanto importante e sia utile socialmente il nostro lavoro.